Musica Arriva da Vigolzoni in provincia di Piacenza ed è un grande appassionato ornitologo e fotografo naturalista. Diamo il benvenuto a Marco Mastro Rilli, appassionato di gufi. Buongiorno e buongiorno a tutti gli spettatori. Perché la scelta di dedicarsi allo studio dei gufi? Io sono appassionato di natura, amo moltissimo tutti gli animali, però diciamo che ormai 25 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa, ho iniziato a dedicarmi un po' per scherzo, quasi per gioco, a ricercare e fare studi scientifici sul mondo dei gufi, delle civette in particolare e poi piano piano da piccola passione è diventata una vera e propria professione. Oggi faccio il gufologo, tra virgolette, quindi è un qualcosa che mi... Il gufologo però a livello internazionale, perché leggo che addirittura a marzo andrà in Minnesota per ritirare un premio. Sono stato invitato negli Stati Uniti perché praticamente quest'anno mi è stato assegnato un premio speciale proprio dedicato alla ricerca che ho condotto in tutti questi anni, in questi decenni, dedicata ai repaci notturni. Quindi è un riconoscimento che magari a livello di popolarità non conferisce nulla di particolare, però per un ornitologo è sicuramente un qualcosa di importante, molto importante. Ecco, ma come si studiano i gufi? Dunque, qui intanto potete vedere delle immagini, questo ad esempio è un allocco e l'allocco è uno degli animali più facili da seguire, da studiare, perché se noi usciamo di notte questi animali è difficile incontrarli in modo ravvicinato, però noi ricercatori abbiamo uno studio particolare che viene chiamato playback. Il playback, proprio come lascio un po' intuire il nome, significa emettere dei richiami dell'allocco in questo caso e uscendo in alcune zone dove gli allocchi sono presenti, questi si manifestano, si avvicinano, è addirittura possibile vederli e si manifestano attraverso il canto. Il canto viene utilizzato proprio come strumento territoriale di difesa. Vediamo sentire alcuni canti, sentiamo allora, vediamo se siamo pronti dalla regia. Vediamo se dalla regia riescono a farci sentire, ecco qua, questo che cos'è? Allora, questo è un assiolo, un assiolo è un altro rapace notturno che arriva, diciamo, nelle nostre zone in primavera, quindi da aprile fino a settembre possiamo sentirlo cantare. Questo suo canto, così un po' metallico, viene chiamato un canto monosillabe, quindi sempre molto ripetuto e frequente nella notte, è veramente facile da riconoscere, a differenza, ad esempio, di altri canti. Diciamo che i rapaci notturni utilizzano appunto questo tipo di canto proprio per difendere un territorio, alla stregua, ad esempio, dei mammiferi che lasciano invece gli escrementi oppure lasciano segni di urina proprio sul territorio per definire quello che è il loro home range. Sentiamo, ne abbiamo un altro. Assolutamente, certo. Sentiamo l'altro. Allora, questo invece è sempre un canto di assiolo leggermente diverso, ci sono canti di maschi e di femmine, io poi vi farò ascoltare, ho portato anche dei canti dell'allocco e della civetta che sono sicuramente molto particolari. Sentiamo allora anche questo. Questo è un canto che viene emesso da molti rapaci notturni, in questo caso sempre da un assiolo, e serve soprattutto a quest'animale per difendersi da eventuali aggressioni. Quando si trova, ad esempio, davanti a una volpe emette questi suoni un po' particolari. Ecco, abbiamo poi anche altre immagini. Non è facile, voglio dire, filmarli di notte? Intanto perché c'è un problema di luci. No, infatti. C'è un problema televisivo. Diciamo che se voi ci fate caso, quando voi guardate i documentari in natura, la cosa più facile è riprendere gli animali di giorno e spesso alcuni degli animali che noi vediamo con più frequenza sono appunto i leoni, le tigre, le gazzelle, proprio perché sono facili da avvicinare. Paradossalmente sembra non esserlo, ma in realtà basta affidarsi a una guida e vi possono accompagnare a pochi metri di distanza da questi animali. I gufi che abbiamo anche nelle nostre città, qui a Cremona, sicuramente vivono all'occhio, civette, gufi, eccetera, però sono difficili perché sono animali abbastanza elusivi ed è molto difficile fare delle inquadrature di questo tipo. Queste riprese me le ha mandate un amico che si chiama Carmelo Milluzzo dalla Sicilia e sono delle riprese molto particolari perché queste riprendono appunto un all'occhio che è un animale abbastanza diffidente a lasciarsi inquadrare dalle telecamere. Esistono anche un po' superstizioni legate a questo tipo di animali. Sì, assolutamente sì e diciamo che appunto anche il mio percorso di naturalista ha avuto un'evoluzione particolare. Io sono partito come ricercatore puro nel senso che ho sempre fatto ricerca scientifica e la faccio tuttora, però poi con il passare del tempo ogni volta che facevo conferenze in giro per l'Italia mi sono reso conto che si avvicinavano a questo tipo di incontri moltissime persone che non erano addetti ai lavori e quindi mi sono reso conto che esiste un mondo di persone che sono molto affezionate e appassionate di gufi senza essere naturalisti. Nel contempo con questo tipo di attività ho cercato di smitizzare alcuni luoghi comuni che al contrario erano abbastanza radicati, ad esempio che il gufo porta sfortuna oppure che quando si sente cantare una civetta spesso è un segnale abbastanza, un presagio negativo che può essere collegato addirittura alla morte. Diciamo che su tutti questi segnali sono legati a un retaggio abbastanza antico, nel senso che arriva dal Medioevo quando questi animali, quindi tutti i rapaci notturni, ma non solo loro, quindi anche i lupi, i corvi, i pipistrelli sono stati annoverati in quelli che venivano chiamati i bestiari medievali. I bestiari medievali sono stati tra virgolette fabbricati su misura proprio per etichettare questi animali che venivano considerati estremamente pericolosi e maligni in passato e alcuni animali hanno fatto fatica a sdoganare un po' tutti questi miti, falsi miti che in realtà non hanno nulla a che vedere con questi animali che al contrario sono molto utili in natura. Voi pensate che un allocco ogni notte può divorarsi tranquillamente tre o quattro piccoli topi oppure anche dei topi grossi. Quindi non si può più dire non bufare. Benvenga nei giardini. Assolutamente no. Non bufare non vale perché non c'è alcune basi scientifiche. Addirittura pensate che ho ideato un festival dei gufi che realizziamo a Graziano Visconti e questo festival dei gufi è proprio dedicato ai rapacci notturni in senso proprio a 360 gradi. Nella scorsa edizione nel 2014 ci siamo riusciti ad invitare, quindi sono venuti più di 25.000 visitatori paganti. Quindi stiamo parlando di una nicchia che si sta allargando anche grazie a Facebook, ad alcuni strumenti social che sicuramente sono utili. Poi ricordiamo anche che nei vari dialetti anche i nomi di gufi e civette hanno spesso e volentieri proprio delle declinazioni. Spessissimo l'allocco ad esempio viene identificato come lock, nel senso che sembra quasi un animale stupido. Ma non è un animale stupido l'allocco? È il contrario. È il contrario, anzi addirittura se qualcuno mi dicesse che sono un allocco lo potrei ritenere sicuramente un complimento. E vi spiego il perché. Perché in realtà l'allocco è un animale molto aggressivo a livello territoriale, quindi si manifesta proprio quando noi lanciamo e cerchiamo di imitare il suo canto. Questo tipo di atteggiamento in passato era confuso, diciamo a livello proprio un po' popolare, come un atteggiamento di stupidità dell'animale. In realtà l'aggressività non è che l'animale è stupido, ma è al contrario, è un animale che difende il suo territorio, sa quello che vuole. Tra virgolette ovviamente stiamo sempre parlando di animali. In questo senso, anche riallacciandomi al discorso che facevate prima, legato proprio anche alle riprese video, con Chiara Guadagnini e Stefania Montanino stiamo avviando un progetto e lo presento proprio oggi in anteprima qua da voi, che si chiama GufoTube, che è un canale YouTube che sarà interamente dedicato ai gufi, a far conoscere il mondo dei gufi attraverso una serie di video molto spettacolari e molto particolari che abbiamo già in parte realizzato e che piano piano metteremo su questo canale. Non l'abbiamo ancora nemmeno pubblicizzato e siete voi i primi a saperlo. Allora magari cariceremo la sua intervista, la sua partecipazione qua da noi. Ma sono animali, per così dire, che vanno protetti, per cui c'è il rischio di estinzione oppure no? Dunque, qua bisogna fare un po' di distinzioni. Dovete sapere innanzitutto che in Italia vivono dieci specie diverse di rapaci notturni. Di queste ce ne sono alcune che sono molto comuni e altre che sono un po' più rare e un po' più elusive. Sicuramente sono tutti animali protetti dalla legge, per cui innanzitutto non si possono detenere. E in secondo luogo ovviamente non si possono neanche abbattere per motivi di carattere venatorio. Quindi sono sicuramente protetti, però alcuni di questi animali soffrono in modo veramente esasperato alcune delle problematiche della vicinanza con l'uomo. Ad esempio il barbagianni è uno degli animali... Ecco, mi veniva proprio in mente il barbagianni perché non l'abbiamo ancora citato. Il barbagianni è un animale splendido. È piccolino? Beh, è abbastanza grande, è completamente bianco. Qui ho portato tra l'altro una penna che stanno inquadrando. Le penne sono degli elementi molto particolari perché sono dei segni di presenza sul territorio. Quando noi troviamo una penna sappiamo che quest'animale è presente. Purtroppo, come dicevo prima, il barbagianni sta diventando sempre più raro e ad esempio nelle nostre province, quindi Cremona, Piacenza, insomma comunque tra Lombardia ed Emilia Romagna, il barbagianni un tempo era molto più comune. Oggi non lo è più proprio perché vengono a mancare soprattutto i siti riproduttivi e moltissimi di questi rapaci notturni vengono investiti dalle auto. Voi immaginate che a differenza ad esempio dei rapaci diurni che volano abbastanza alti, i rapaci notturni hanno un volo quasi rasoterra. E quindi spesso quando si incrociano i voli dei rapaci notturni con la situazione degli attraversamenti dei veicoli, quindi del traffico veicolare classico sulle strade, ci sono moltissimi impatti. Quindi è uno degli animali che purtroppo muore con maggior frequenza sulle strade. È vero che viene attirato dai fari delle auto? Viene disorientato dai fari delle auto. Quindi sicuramente, ad esempio abbiamo fatto diverse osservazioni che ci lasciano pensare che ad esempio la strada possa essere uno strumento in cui li favorisce nella caccia. Per darvi un esempio, i piloni attirano ad esempio gli insetti, attirano di conseguenza anche dei micrononi. Capita anche qua intorno nella nostra zona di vedere barbagianni o altri rapaci proprio appollaiati sopra i palli della luce. Dobbiamo chiudere le ultime battute. A proposito di penne, sono particolari le penne di questi rapaci? Assolutamente sì, perché la penna di un rapace notturno, soprattutto questa che vi ho portato da vedere, che poi vi regalo una per una, queste penne di barbagianni sono particolari perché su questa parte è presente un piccolo pettine che consente ai rapaci notturni di eliminare completamente l'attrito. Per cui quando un rapace notturno vola, un silenziatore, che nel caso dei rapaci notturni è una formula veramente vincente perché di fatto diventano dei veri e propri killer silenziosi. Insomma il nostro Marco Mastrorilli veramente super esperto, vedo tra l'altro che ha scritto un sacco di libri, Il gufo di palude, Quelli della notte, Gufo guida e poi ancora cosa c'è? Non volare nasconditi, Un volo sulle foppe, insomma veramente di tutto. L'ultimo libro che ho fatto è dedicato ai gatti e ai gufi, per cui magari se mi invitate una volta parliamo di gatti e di gufi. Parliamo anche di gatti, va bene, ma vedo anche organizzatore del Coccinella Day. Sì, sono appassionato di natura come dicevo, per cui in realtà ho organizzato anche un evento molto grande e particolare, di tutto dedicato alle coccinelle. Le coccinelle sono degli animali, anche questi se vogliamo un po' considerati di porta a fortuna, ma in realtà abbiamo fatto loro un servizio abbastanza negativo, nel senso che qualche anno fa abbiamo introdotto in Italia la Coccinella Asiatica, una coccinella che arriva dalla Cina, che si mangia e si divora tranquillamente tutti gli afidi, come fanno le nostre coccinelle, quindi in questo senso è utile, ma finiti gli afidi comincia a divorarsi le nostre coccinelle. Quindi ha portato in alcuni casi sull'orlo dell'estinzione alcune specie locali, quindi è assolutamente una specie aliena e molto negativa. Se volete saperne di più vi aspetta il nostro amico a Graziano Visconti, dove c'è anche la bottega di Mastro Gufo. Sì, abbiamo anche un negozio, adesso io poi ho creato una società, quindi ho un gruppo di lavoro vero e proprio, che si dedica interamente ai gufi, abbiamo aperto anche un'attività commerciale e vendiamo gufi da collezione, non gufi vivi. E allora ne parleremo però sicuramente in futuro, perché vogliamo che torni a trovarci, grazie allora Marco Mastrorilli e a queste bellissime immagini. Questa penna è per te. Grazie, grazie mille. Poi ci dirà dove possiamo trovarli, eh? Assolutamente. Io devo avere un gufo, una civetta, io purtroppo non è che conosca bene i versi, però magari inviterò nel mio giardino a scoprire che cos'è. Assolutamente sì, assolutamente. Grazie a tutti. Giovanni. Grazie, grazie. Grazie a tutti.